Musica Buongiorno, ben ritrovati con Linea Diretta, un nuovo appuntamento quest'oggi dedicato alla salute. Infatti il titolo della puntata si chiama Mali di stagione, periodo di influenza, si va verso l'inverno, quindi quali precauzioni dobbiamo mettere in campo. Ne parliamo in questa mezz'ora insieme a un medico di famiglia, il dottor Vincenzo Malatesta. Buongiorno. Buongiorno. Dicevamo dottore, si va verso l'inverno, anche se le temperature sono un po' pazzerelle, abbiamo visto due settimane di pioggia, oggi c'è il sole, quindi sbalzi di temperatura che già hanno provocato i mali, i cosiddetti mali di stagione. Beh, indubbiamente questo clima molto imprevedibile e sicuramente imprevisto espone un po' tutta la popolazione a questi sbalzi termici che favoriscono sicuramente le malattie del raffreddamento. Ne abbiamo avuto una prima ondata in questo periodo fino a poco tempo fa, proprio perché io direi che più che gli sbalzi di temperatura che sono stati molto relativi quest'anno, gli sbalzi di umidità sono quelli che hanno favorito molto l'insorgere di queste patologie. Non siamo ancora e non possiamo ancora definirla influenza, parliamo di vere e proprie malattie da raffreddamento. C'è stata anche un'estate infelice dal punto di vista delle temperature, quindi insomma magari nessuno ha avuto il beneficio del caldo che può dare anche dei benefici un po' alla stagione estiva a volte. Assolutamente sì, c'è stata un'estate anomala, abbiamo avuto anche un inverno anomalo e quindi usciamo da un periodo molto lungo in cui quello a cui eravamo abituati come comportamento climatico non si è verificato. Le temperature fredde invernali non è che siano sempre così negative, anche perché spesso al freddo si associa un clima più secco quando la temperatura è più fredda e questo favorisce sicuramente il benessere rispetto a un clima meno freddo però molto più umido. A questo è seguita un'estate che non ci ha garantito la ripresa delle alte temperature e quindi un benessere generalizzato del nostro fisico in poterci esporre anche al sole e quindi la situazione di molti individui non è certo quella ottimale per affrontare il prossimo inverno che non sappiamo cosa ci garantirà sempre dal punto di vista climatico. Però c'è già stata delineata, descritta l'influenza che dovrebbe arrivare, dovrebbe colpire? Indubbiamente perché questa ci arriva dopo che ha dato le sue manifestazioni in altre zone. Non sembra essere, come del resto è stato anche l'anno scorso, un'influenza particolarmente pesante. Quindi quella che ci aspetterà sarà un'epidemia influenzale che tutto sommato ci porterà delle buone febbri, ma non molto di più di questo. Come sempre quello a cui dobbiamo fare più attenzione è la popolazione più a rischio, cioè gli anziani e i portatori di patologie particolarmente debilitanti. Noi stiamo affrontando questo problema in questo momento con la campagna vaccinale che è iniziata da una quindicina di giorni, che stiamo portando avanti in collaborazione con le aziende USL del Veneto, con lo scopo di cercare... Lei è di Padova, però è a livello regionale ovviamente che le vaccinazioni sono cominciate. L'obiettivo appunto è quello di cercare di coprire la maggior fascia possibile di questi soggetti a rischio. Poi anche se si potesse ampliare ancora di più, ancora meglio, perché quanto più si vaccina e tanto più si garantisce alla popolazione una prevenzione efficace. Quindi la vaccinazione è consigliata per le categorie cosiddette a rischio come gli anziani, magari anche i bambini, visto che comunque nelle scuole si viene più in contatto e c'è un passaggio di germi e bacilli più consistente. Allora, dobbiamo però tenere conto e fare chiarezza su una cosa. La vaccinazione non immunizza totalmente contro la malattia. Previene la possibilità di sviluppi negativi dell'influenza. Quindi previene il fatto che un'influenza si possa tramutare in una broncopolmonite o avere strascichi molto più pesanti, cosa che nell'anziano può essere molto frequente. Nei bambini questo, se il bambino è sano, è meno evidente perché il bambino ha le sue difese se è sano ed è in grado di reggere e combattere eventualmente un'influenza banale. Ecco, diciamo, per cui il bambino, se il bambino può essere un bambino diabetico, può essere un bambino osmatico, un bambino che abbia dei problemi, sicuramente l'intervento col vaccino può essere utile. Ma il fatto che sia solamente un bambino, anzi, è bene che un po' di anticorpi si sviluppino spontaneamente, almeno per questa patologia. Almeno le influenze, le malattie, quelle più leggere, è giusto che un bambino le debba sfogare. In qualche modo. In qualche modo, sì. Torneremo poi magari ad occuparci più nello specifico delle vaccinazioni per quanto riguarda i bambini e anche i neonati. Invece sulla questione influenza, lei consiglia la vaccinazione anche a certe categorie di adulti, certe categorie di lavoratori che magari sono più esposti al contatto con la gente, quindi più facilmente attaccati dall'influenza. Certamente. Non dimentichiamo che l'epidemia influenzale generalmente si sviluppa nella sua forma di picco intorno alle feste natalizie. Perché questo? Perché nelle feste natalizie c'è una maggior concentrazione di persone che frequentano i supermercati, i centri commerciali, quindi la gente si accalca e questo dà la possibilità del diffondersi molto maggiore del virus. Ecco che questo ci significa che chi è più vicino ad altre persone, per lavoro, per attività oppure anche è vicino a persone che hanno necessità di assistenza e quindi è vicino a soggetti deboli, ha la necessità di coprirsi dal punto di vista della prevenzione quindi col vaccino. Quindi sarà un'influenza sostanzialmente con febbre alta ma non disturbi respiratori o ci saranno anche le... Beh, un po' di disturbi respiratori ci sono sempre se no non sarebbe un'influenza. Però non dovrebbe essere una cosa molto grave, molto forte come alcune influenze che abbiamo visto negli anni passati. Questa dunque l'influenza è già iniziata, dicevamo, la campagna vaccinazione e lei diceva proprio che è impegnato proprio in questi giorni. C'è un aumento delle vaccinazioni rispetto agli anni passati, secondo lei, o il trend è sempre lo stesso? Allora, noi abbiamo fatto un grosso lavoro sulla popolazione come categoria, come medici di famiglia, medici di medicina generale, proprio per sensibilizzare la popolazione e anche offrendo il nostro operato direttamente, quindi essendo più vicini alla gente e essendo più comodi anche forse da raggiungere per i pazienti siamo riusciti ad ottenere un grosso risultato da questo punto di vista. Ci sono ancora alcune resistenze, indubbiamente. Un po' per esperienze passate, perché sicuramente un tempo il vaccino non era così tranquillo come lo è oggi, ci sono stati in tempi trascorsi vaccini che hanno dato dei problemi oppure semplicemente perché uno si è vaccinato in un momento in cui non era completamente stabilizzato nella sua salute e quindi magari aveva già cominciato a contrarre il virus e il vaccino non ha fatto altro che... Quindi ci deve essere anche una condizione fisica ottimale, ideale, quantomeno perché il vaccino abbia più effetto, sia più intensivo. Assolutamente sì, quantomeno perché non dia effetti secondari negativi. Pazienti che magari già con un po' di raffreddamento fanno il vaccino possono portare avanti questo raffreddamento per un periodo più lungo proprio per tutto un insieme di meccanismi del sistema immunitario che vengono a essere messi in moto. Ed è questa anche la ragione per cui si cerca di iniziare la campagna vaccinale il più presto possibile per garantire alle persone di non essere già attaccati dal virus, cosa che renderebbe anche inutile la vaccinazione. Non dimentichiamo poi che il vaccino ha bisogno di un suo tempo per agire, non è che uno oggi si vaccina e da oggi è coperto, ci vogliono almeno una ventina di giorni perché cominci a fare effetto. Se in questi 20 giorni con il vaccino in corpo mi prendo un raffreddore o una sindrome parainfluenzale, la cosa chiaramente mi dà un'esperienza negativa. Ecco perché questi individui che hanno subito queste esperienze in genere l'anno dopo sono un po' refrattari. No, non voglio farlo perché l'anno scorso poi sono stato male. Ma sono pure coincidenze. In realtà il vaccino ha sempre un effetto benefico se appunto assunto nella maniera giusta. Quindi è consigliabile vaccinarsi adesso perché il picco dell'influenza arriverà verso dicembre. Quindi bisogna dare il tempo al vaccino perché faccia effetto. Ma secondo lei c'è sempre stato questo pregiudizio nei confronti dei vaccini. C'è ancora, resiste o si sta prendendo più consapevolezza che il vaccino non ha così tante controindicazioni? Io credo che col passare del tempo, ripeto, un po' con l'operazione che abbiamo fatto sulla popolazione in maniera molto diffusa. Un po' perché anche la stampa, lo stesso internet fa da cassa di risonanza in maniera positiva in questo senso cominciano a calare molto di più. Certo, i picchi di resistenza ci sono sempre e resteranno sempre perché chi viene colpito da notizie in modo particolare di un certo tipo probabilmente si arrocca poi dietro a un concetto che è difficile smontare. Però nel lato pratico noi abbiamo visto che soprattutto nella popolazione anziana la quantità di casi di influenza da quando facciamo la vaccinazione in modo molto diffuso sono sicuramente diminuiti. Oltretutto sono diminuiti i casi di complicanze dell'influenza e questo è l'obiettivo che ci poniamo principale. Senta un po', è colpa anche nostra, faccio me la colpa della Stama, però tante volte si sente è morto per l'influenza. Quindi c'è una sorta di allarmismo troppo forte a volte nei confronti dell'influenza. Mi viene in mente qualche anno fa quando ci fu quell'epidemia di influenza, la cosiddetta suina. Appena c'era un decesso poi magari si andava a scoprire che la persona deceduta aveva una serie di patologie pregresse e quindi una storia medica complessa. Quanto contribuiamo anche noi purtroppo della Stampa a allarmare sull'influenza? Beh, indubbiamente la Stampa non sempre viene incanalata nel modo giusto con le conoscenze adeguate, come giustamente ha accennato prima a quei casi che erano stati molto amplificati al tempo di quella epidemia. Erano casi particolari. L'influenza può essere la goccia che fa traboccare un vaso, ma un vaso già ben pieno. Quindi poi prenderla come la causa del decesso bisogna rifletterci e prenderla con le pinze. Certo che io mi rendo conto che anche la diffusione delle notizie ha bisogno di notizie da amplificare in qualche modo perché è il lavoro di chi diffonde e per farsi sentire a volte bisogna forse un po' anche esagerare. Però in questo campo, sull'opinione pubblica, bisogna cercare di essere equilibrati il più possibile proprio per non dare poi delle informazioni che nel tempo possono diventare più negative che positive. Torniamo ad occuparci dei vaccini per quanto riguarda i bambini, i neonati. Quanto è giusto, l'interrogativo sempre frequenta, quanto è giusto vaccinare? Vaccinare troppo poco, vaccinare troppo? Insomma, che rischi vanno incontro ai bambini? Perché spesso si collega il vaccino anche poi a delle altre malattie, insomma, dello sviluppo di altre malattie. Beh, noi non dobbiamo dimenticarsi che ci sono patologie che abbiamo totalmente sconfitto. Ricordiamoci la difterite, la poliomilite, erano patologie che fino a 50 anni fa in qualche modo preoccupavano ancora anche la nostra area, ma che ad oggi sono considerate proprio ormai nel dimenticatoio. A un certo punto eravamo riusciti a fare questa operazione anche con la tubercolosi, anche grazie a una vaccinazione che era stata portata a livello capillare. Purtroppo poi l'importazione dei casi di tubercolosi con i flussi migratori ha fatto ritornare di importanza questa patologia. Però è grazie al vaccino che alcune patologie si sono considerate ormai debellate in maniera quasi definitiva. Dobbiamo sempre dire quasi perché appunto l'esempio che noi dicevamo essere ormai scomparsa tra le nostre file è ritornata e dobbiamo riprenderla in considerazione molto forte. Però il vaccino è sicuramente una grossa arma per combattere alcune malattie. Pensiamo addirittura al vaccino per l'HPV che è stato adottato ormai da anni nella popolazione femminile e che adesso inizia ad essere adottato anche nella popolazione maschile dove si è visto che l'intervento di questo virus può causare... Per chi ci segue da casa spieghiamo che cos'è il virus dell'HPV visto che è piuttosto recente la sensibilizzazione in materia di questo virus. Certo, è il virus che provoca il papilloba che nel maschio non dà di per sé grosse dimostrazioni di sé nella femmina può dare ad esempio la comparsa di tumori al collo dell'utero in questo modo vaccinando, cercando di ridurre il... il propagarsi questo virus si tende, lo scopo è quello di diminuire... Inizialmente si pensava che fosse solo una trasmissione per via sessuale invece si è capito che non è esclusivo. Che non è solo quello, esatto, è un virus molto infido che può essere trasmesso anche in maniera diversa. Certamente, come dicevo, cercare di ridurre la presenza e la malattia, tra virgolette, da papilloma può ridurre casi di insorgenza di tumore. nell'uomo può essere responsabile di alcune lesioni superficiali di tipo dermatologico, diciamo, a livello degli organi sessuali che non hanno dato di per sé riscontro di patologie del tipo molto più grave come quelle che si sviluppano in una donna. però l'uomo può essere il tramite per questa cosa. Quindi questo è un esempio di qualcosa che è stato... che stiamo portando avanti che sicuramente avrà una grossa utilità nel futuro e già qualcosa... E quindi oltre che per le femmine, anche per i maschi. Continuiamo sempre con le vaccinazioni per quanto riguarda i bambini. Anche la meningite è un vaccino che adesso si è ritenuto essere più necessario tanto che viene fatto anche ai bambini molto molto piccoli. Certamente. Anche questa è un'arma che abbiamo visto tornare molto utile in momenti in cui proprio nella nostra regione ci sono stati dei casi di meningite che sono stati riportati proprio in queste zone tra Padova, Treviso, eccetera in cui i giovani, soprattutto frequentando luoghi chiusi tipo le discoteche, si era pensato che ci potesse essere questa diffusione di questa malattia. E in quel caso abbiamo riscoperto l'importanza in qualche modo, soprattutto nei ragazzi della vaccinazione anti-meningo-cocco, ma se questa viene sviluppata, viene diffusa nei bambini, già ci previene poi per l'evoluzione di questa malattia. Sappiamo poi peraltro quali sono i risultati di una meningite e quali possono essere, quindi stiamo parlando di una malattia molto pesante, molto ardua da combattere dal punto di vista di quelli che possono essere i reliquati dopo la malattia e quindi è importante cercare di prevenire. Un altro concetto molto importante vorrei sottolinearlo nel problema della vaccinazione, perché sicuramente c'è da un lato, noi dobbiamo tenere conto, che esiste anche un problema economico alla base di tutto. Fortunatamente siamo in una regione in cui la medicina in generale è una delle eccellenze della nostra vita sociale e possiamo dire con tutta tranquillità che per quanto possa essere costoso un vaccino e quindi portare avanti una campagna vaccinale è un costo che comunque viene ampiamente rimpagato da risparmio di farmaci, perché se non si sviluppa la malattia poi i farmaci vengono risparmiati per curare queste patologie, e risparmio poi di effetti collaterali, di invalidità, di giorni lavorativi, di tutta una serie di cose a cascata che vanno quando una persona si è mala di cui bisogna tener conto. Quindi la vaccinazione è una spesa al momento in cui si fa, però si ripaga nel tempo sicuramente. È come comprare una macchina un po' più duratura, che magari ti costa di più quando la compri, però poi nell'usarla risparmi sui suoi consumi, e ti dura più nel tempo. Per fare una... La categoria dei pediatri, però si diceva soddisfatto per quanto riguarda la campagna vaccinazione 2015 della Regione Veneto, perché alcuni dei vaccini, tra cui anche quello dell'HPV, per una fascia d'età dei bambini più piccoli, quelli nati nell'ultimo periodo, insomma, poteva essere fatta in modo gratuito. Quindi insomma c'è anche... Certo, certo. Un impegno nel portare avanti, insomma nel poter garantire a più fasce della popolazione il vaccino. I cosiddetti vaccini trivalenti che venivano fatti già dagli anni 80 continuano ad essere... Lei prima parlava del ritorno di malattie, in particolare la TBC, e con queste ondate di arrivo di profughi, purtroppo si è assistito anche a casi di scabbia, una malattia che insomma si pensava fosse sconfitta da tempo. C'è stato anche un allarme, poi magari approfondiamo anche il discorso Ebola, che era quello che più preoccupava, però per queste malattie che ci sono stati effettivamente dei casi anche in città, come bisogna comportarsi? Perché insomma poca gente se le ricorda oppure sa come deve affrontarle. Beh, dal punto di vista sanitario le abbiamo tutti molto ben presenti, perché sono malattie che ultimamente si erano date più o meno per debellate, ma non avevamo abbassato totalmente la guardia, quindi sono tutte situazioni che abbiamo in qualche modo gestito fino all'altro ieri e che ricominciamo a gestire tranquillamente. Purtroppo queste sono l'indice di un'incuria e anche così di sistemi sanitari da cui provengono queste persone che non sono così efficienti come il nostro e quindi vengono, poi sappiamo che i flussi migratori oggi sono composti anche da persone disperate, persone che pur di venire via da situazioni particolari non badano al loro stato di salute e cose di questo genere ed è comprensibile che questo venga a cadere sulle nostre spalle. In qualche modo purtroppo noi abbiamo registrato anche una diffusione della tubercolosi all'inizio, soprattutto perché molte di queste persone vuoi perché vivono in condizione di clandestinità, vuoi perché hanno una cultura diversa dalla nostra, nel momento in cui si riusciva a ricoverarle per curarle, dopo due giorni scappavano dall'ospedale e si disperdevano nella popolazione riportando in giro quello che era il contagio e cose di questo genere. purtroppo questo è un qualcosa su cui possiamo far poco se non quello di cercare di istruire queste persone a fargli capire che hanno un problema, che quel problema può essere gestito, che la loro vita può essere migliore se viene gestito e soprattutto che per quanto noi possiamo accoglierli benevolmente all'interno della nostra società devono anche loro metterci del loro per cercare di non divulgare patologie e situazioni che possono danneggiare anche chi fino ad oggi ha ritenuto di vivere bene. Mi riferisco a quello che lei ha detto, tubercolose, scabbia, anche la sifilide purtroppo è ritornata un po' di moda, ma questo è anche dovuto anche alla sbadataggine, chiamiamola così, di qualche maschietto che non fa molta attenzione nell'avere rapporti. Però, ecco, erano tutte cose che noi avevamo in qualche modo tra virgolette dimenticato dedicandoci poi ad altre patologie perché per noi la patologia HIV era la patologia emergente e più grave. Per altri paesi invece siamo ancora una cinquantina d'anni indietro. Sì, c'è anche la mancanza magari di conoscenza da parte di informazione. una ignoranza ma nel senso che si ignorano come le procedure per mettersi in sicurezza. E poi c'è stata la grande emergenza Ebola, la grande allarme che ha fatto preoccupare l'Europa, il nostro paese. Ci sono stati dei casi a Madrid e quindi in Germania anche e si temeva appunto che potesse arrivare anche nel nostro paese. Tanto che molti si sono prese delle precauzioni vediamo l'ordinanza proprio qui a Padova anti-ebola con questo obbligo di far fare i certificati medici ma l'ebola anche voi medici dovevate da prima informarvi perché non si capiva come avveniva il contagio piuttosto che i sintomi che non sono subito manifesti. Ma su questo devo dire che noi abbiamo un grosso supporto da parte del servizio igiene pubblica della nostra ASL che ci comunica in tempo reale tutti ci tiene informati in tempo reale sulla diffusione della patologia sui modi di presentarsi e quindi noi abbiamo un aggiornamento costante oltre che fatto da noi stessi sulle nostre fonti anche attraverso le forme ufficiali e quindi sappiamo come seguire le cose però se non sbaglio proprio la vostra categoria quella dei medici è quella più a rischio perché se vediamo se analizziamo i casi di malati da ebola sono infermieri o medici che operano a stretto contatto con un paziente che ha il virus ebola manifesto allora dobbiamo innanzitutto sottolineare che l'emergenza ebola è ancora è ancora un'emergenza ed è ancora anche se oggi forse se ne parla un pochino meno è sempre forse colpa nostra della stampa che quando c'è il boom diamo risalto poi magari appena si placa un attimo non ne parliamo più però invece è giusto sensibilizzare a fare attenti maliziosamente da parte di chi ascolta c'è sempre il sospetto che alcune notizie siano utilizzate di più per distrarre l'attenzione da altre notizie da altri fatti quindi in alcuni momenti vengono utilizzate forse a scopi particolari in realtà poi probabilmente anche quando esplode il caso c'è maggiore attenzione poi ci si abitua anche un po' a che esista questo caso però noi sappiamo benissimo che in alcune zone dell'Africa questo è un problema anche di difficile controllo abbiamo e di questo vorrei rallegrarmi e dare riconoscimento a una grossa organizzazione proprio padovana che è i medici per l'Africa che stanno il CUAM sta portando un grosso contributo e in questo esponendosi proprio perché chi va là sa di esporsi anche alla possibilità di contagio però adottando determinate precauzioni adottando i mezzi di usa e getta per riuscire a evitare il contatto diretto con il germe sicuramente si riesce a contenere anche il pericolo certo questo comporta poi un problema economico alla base perché le attrezzature per potersi difendere dal contagio sono attrezzature costose ecco perché tutta questa forma di volontariato costantemente ci chiede anche un contributo ci chiede di poter supportarli perché realmente il loro apporto in zona è sicuramente la prima prevenzione perché questo si diffonda nel nostro paese è citato casi in Spagna casi sono stati anche in America sono sempre persone che hanno lavorato là e sono tornate con la malattia fortunatamente anche se con cure costosissime si è riuscito a debellare qualche caso aprendo anche lo spiraglio al fatto che in futuro anche questa patologia sarà una patologia da poter gestire come un'altra patologia dicevo questi casi che ci arrivano a parte i sanitari che sono tornati dopo aver lavorato là ci sono pur sempre c'è pur sempre il pericolo che qualche migrante possa venire e portarsi a dietro quantomeno anche perché c'è un certo periodo di incubazione c'è un periodo di incubazione quindi prima che l'ebola sia manifesta ci vogliono dei giorni una quindicina se non ricordo male quindi anche il fatto di chiedere un certificato medico può essere non del tutto una garanzia una testata di garanzia perché magari fisicamente una persona sta bene ma sta covando incubando adesso la terminologia non mi perdoni se sei errata però sta incubando il virus allora io non so quale spinta ci sia stata per creare questo processo di prevenzione chiamavano comunque il problema resta pur sempre quello che se si ritiene che un certificato compia tutto il lavoro abbiamo abbassato la guardia proprio per il discorso che si è appena detto se io visito un paziente nel momento in cui mi sembra sano non posso dare la certezza che lo sarà anche però io dico che oggi lo è e se poi ha in sé il virus e lo porta in giro non lo posso sapere quindi il certificato va bene può andare bene e può essere un primo step ma non è l'arma con cui ci possiamo difendere sicuramente l'arma di difesa è quella di cercare di evitare i contatti con persone che vengono da zone a rischio in maniera molto stretta certo l'ebola non si trasmette attraverso l'aria certo ci deve essere un contatto abbastanza diretto con i liquidi biologici eccetera quindi bisogna adottare le giuste precauzioni siamo in chiusura abbiamo gli ultimi due minuti lei prima parlava di certificato mi collego alle ricette che da settembre appunto c'è una novità la cosiddetta ricetta in bianco come è cambiato per voi i medici di famiglia con questa novità allora per noi i medici di famiglia intanto questa novità è arrivata in un momento in cui noi eravamo già preparati a affrontarla nel senso che praticamente la quasi totalità dei medici di famiglia è informatizzata e quindi la possibilità di affrontare questa nuova forma di ricettazione c'era ampiamente ciò nonostante a parte il fatto che per poter affrontare questo ci vogliono anche le retti telematiche e in alcune zone non arriva ancora neanche la DSL quindi questo non è un problema nostro però è un problema strutturale che complica la vita primo secondo luogo siamo in una via da percorrere per arrivare alla vera dematerializzazione la vera dematerializzazione dovrebbe essere quella in cui il paziente viene io prescrivo e esce senza avere niente in mano perché la prescrizione va direttamente alla farmacia questo ancora non è possibile perché le farmacie il gruppo dei farmacisti non hanno ancora risolto il problema della fustella da appiccicare e purtroppo noi dobbiamo fare ancora questi pezzi di carta probabilmente c'erano dei meccanismi diversi che si potevano mettere in piedi già da tempo ma penso che un po' alla volta siamo fiduciosi che ci arriveremo certo il poter risparmiare carta in quantità stampe eccetera è una buona cosa però ripeto quando si arriverà al punto in cui il paziente viene esce a mani vuote nel senso che è già tutto telematico andato a buon fine a buon fine e con questa speranza insomma al prossimo passo magari noi discuteremo e che soprattutto le linee funzionino bene perché a tutt'oggi ogni tanto si blocca tutto questo è l'appello che arriva io ringrazio il dottor Vincenzo Malatesta per tutte queste informazioni grazie anche a voi di essere stati in nostra compagnia l'ina diretta termina qui io vi auguro una buona giornata arrivederci grazie grazie a tutti